Ciao ragazze, oggi volevo farvi vedere come realizzare un tondolo con dei legnetti. In questo caso è un legnetto raccolti in riva al mare. Iniziamo col prendere tre pezzetti di fil di ferro lunghi circa 10 cm. Io l'ho già tagliato. Iniziamo col prenderne uno e fare un occhiello. In questo modo. Con la pinza arrotoliamo il fil di ferro restante intorno a questo occhiello. In questo modo. Ora andiamo ad applicarlo sul nostro legnetto. Lo appoggiamo dove più ci piace e andiamo a prendere la forma del legnetto. In questo caso possiamo tagliarlo. Lo tagliamo in pezzetto. E lo andiamo a posizionare dentro proprio al legno. In questo modo. E con le pinze ci aiutiamo e lo premiamo. In modo che entri bene. Ok. Abbiamo applicato il primo riccio. Così si fa per tutti gli altri pezzetti sin che non li abbiamo più o meno riempiti. Ve ne faccio vedere uno già completato. Eccolo. L'effetto dovrebbe essere questo. Ho già fatto anche il foro. E andiamo a prendere del filo nero cerato. Ne tagliamo un pezzo. Prendiamo anche la misura del collo. E andiamo a prenderla a metà. E andiamo a infilare nel buco precedentemente fatto. Infiliamo il filo. Ecco fatto. Per chiudere si può chiudere con un nodo discorsorio. Ciao, alla prossima.